È stata una iniziativa molto molto utile, ritengo, perché poi alla fine ecco si è capito che non bisogna dire mentre il medico studia e il malato muore. Ci sono diverse soluzioni sul tappeto, dipende dalla politica, recepirle e renderle concrete. Ecco, far sì che attraverso provvedimenti a carattere normativo che però interessano la sfera nazionale, non quella regionale, il problema delle demolizioni, soprattutto giudiziali, venga risolto una volta per tutti. Anche perché è un dramma, è un problema che si caratterizza purtroppo per ripetute violazioni del principio della par condicio, del principio della imparzialità. Insomma, le esecuzioni avvengono a macchia di leopardo, in un contesto territoriale caratterizzato da migliaia e migliaia di costruzioni abusive e la gente non ci capisce più nulla, è una roulette russa. Le soluzioni, ripeto, sul tappeto ci sono, quindi io ho detto al convegno che il medico ha la medicina da somministrare, l'antitodo alla malattia c'è, è la politica che deve decidere la somministrazione, non io. Sul piano tecnico, ripeto, c'è la possibilità di porre fine a questo scempio perché è un vero e proprio scempio istituzionale che non è accettato da tutti, insomma, non fa onore al Paese perché in Europa nemmeno sanno spiegare questo fenomeno, in Europa non sa nemmeno la parola condono edilizio che cos'è, certamente. È impensabile, questo pure ho detto, che possa essere varata una normativa di condono. Bisogna vedere se ci sarà la volontà politica di chiudere questo capitolo. Sì, ora la politica è stata completamente latitante, io aggiungo subalterna, supina alla magistratura penale e questo non va bene perché in un ordinamento democratico nel quale vale il principio della divisione dei poteri, la magistratura svolge la propria attività di controllo della legalità, guai se non fosse così, ma chi deve gestire determinati, delicati interessi deve poter fare il proprio lavoro. La politica, se vuole, può risolvere il problema, può porre fine, ripeto, a questo scempio, a questa ingiustizia, tale soprattutto perché le demolizioni avvengono a macchia di leopardo senza una logica, senza alcun criterio, fatto gravissimo ed inaccettabile in un Paese civile come il nostro.